C'è scritto, mesci il profumo del mare, perché qui se tu muovi qui, ma ci hanno, sai quanti anni, 30 anni hanno questo, io l'ho raccolte in Sardegna, a Stintino, pensa un po', non mi ricordo, nel 1985 quasi, si, non ricordo bene, e ancora chiuse qui dentro, perché poi questa è una biglia che abbiamo fatto all'epoca quando noi lavoravamo il pesmet, ed è un portaghiaccio, questa è esposta al MoMA di New York, però non sotto il nome mio, perché stava Polibar, hai capito un materiale Polibar, vabbè, non fa niente, con le pietre, vedi, queste qui, solo una parte di quello che ho, vedi, questo è un nido che io avevo raccolto, qui, vedi, è un nido in campagna, e poi l'ho inglobato, peggio, e un'altra cosa, poi lavoravo con le trasferibili, e mi è venuta l'idea di inglobare pure, lo stesso quando scriveva a macchina, quando non c'era il computer, ho accartocciato il foglio, e mi sembrava una rosa, e si muoveva, e mi è venuta la voglia di inglobarlo, poi anche queste, tutte, sono tutte delle lastrine, che di qua non c'è niente, di qua non vedi nulla, però poi se le c'è, c'è la scrittura, perché è una lastrina inglobata, questo è lo stesso di un trasferibile, che io ho inglobato all'epoca, qui c'è la poesia, poi vedi, di lato non si vede niente, e di qua c'è la poesia, queste invece sono tutte come pagine di libri, incise, dietro, ok